Possiamo dire che la trenovela di Frattesi si è finita perché l'Inter dopo la cessione appunto di Brozovic al Nasr ha prelevato i soldi, ha incamerato i soldi per acquistare appunto classe 99 dal Sassuolo. C'è affare attorno ai 26-27 milioni di euro che dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto e nel trasferimento vi è anche il passaggio appunto in Nero Verde di Mulattieri ex Frosinone attaccanti che nel corso della sua carriera ha cambiato più volte ruolo perché comunque è partito da 10 poi è fito a essere non solo una prima punta. Il giocatore classe 99 ex Roma firmerà un contratto quinquennale da circa 2.8 milioni di euro nette a stagione. Una formula molto intelligente, molto funzionale dal punto di vista dell'Inter perché comunque un prestito con obbligo di riscatto permette appunto all'Inter di mettere a bilancio questa cifra la prossima stagione. Un po' la stessa cosa che fece la Juventus con Locatelli però il prestito per Locatelli era biennale. Un Sassuolo che comunque secondo me arriva al punto di sacrificare una pedina importante ma allo stesso punto la rende contenta perché comunque frattesi più volte aveva lasciato capire che desiderava cambiare aria, desiderava fare uno step up. Poi quando Mariso aveva lasciato tempo fa qualche dichiarazione un po' sibillina, il giocatore aveva già deciso dove giocare, aveva dichiarato che voleva fare la mezzala e quindi giocoforza la Juve non ha le mezzali. In Milan idem con patate, la Roma idem con patate quindi si aspettava soltanto l'accessione di Brozovic da parte dell'Inter insomma e secondo me avrebbe anche temporeggiato frattesi qualora insomma poi la cosa fosse stata un po' più lunga del dovuto riguardo appunto Brozovic. Al Sassuolo va Mulattieri allora in primis bisogna vedere adesso il Sassuolo cosa farà con Pinamonti perché comunque in rosa i neroverdi hanno più attaccanti Pinamonti, Alvarez e tra queste appunto adesso si inserirà anche Mulattieri. Con Dionisi che gioca con un 4-3-3 suppongo che Mulattieri possa fare la prima punta, al limite potrebbe fare il trequartista o quantomeno in gergo football menageriano diciamo l'attaccante di sostegno. Quindi a giro un pochino da seconda punta ma sotto la prima ma non escluda appunto una partenza di Pinamonti. Pinamonti secondo me non ha per niente convinto negli ultimi anni e quindi secondo me qualora dovesse arrivare un'offerta gradita appunto al Sassuolo secondo me i neroverdi valuterebbero una cessione. Non conto meno di una ventina di milioni di euro insomma magari così se andrebbero a pagare in parte anche l'acquisto di Mulattieri facendoci anche del profitto. Sono contento per Mulattieri perché da tempo dicevo che secondo me mi dava una chance nell'Inter. Poi si sa purtroppo nelle grandi squadre quando girano tanti soldi ma soprattutto quando ci sono tanti acquisti costosi ovviamente quello che vale un po' di meno la va a pagare anche se magari le aspettative sono tante però c'è il discorso che dice ok io investivo tanto per questo giocatore e vorrei fare fruttare l'investimento. Stesso discorso che un po' fece comando ai tempi del Presidente Germain e rifiutò il rinnovo per poi firmare per la Juventus perché disse ok perché dovrei rimanere al Presidente Germain quando magari mi pare che quell'anno preso anche Neymar quando hanno preso Neymar, Cavani, questi qui che sono costati di Dio ma adesso devono fargli giocare gioco forza ma secondo me Mulattieri a Sassuolo potrà esplodere perché come giocatore al di là che abbia già sempre giocato in B ma è un giocatore che vede la porta, che comunque ha l'assisi nel DNA, che vede la profondità, dal buon fisico che si è ripreso molto bene dall'infortuna al ginocchio perché se no era quando ne apriva dell'Inter se lo spaccò quindi stette per un bel po' di tempo fuori ma ripeto secondo me può essere un ottimo acquisto quello di Mulattieri e in un ambiente come Sassuolo senza quelle pressioni clamorose secondo me potrà dire la sua ovviamente fatemi sapere qui sotto cose pensate cari tifosi del Sassuolo ma anche cari tifosi dell'Inter anche se per l'Inter stanno girando un po' di nomi che onestamente mi lasciano un po' basito perché si parla di studiare Brozovic però poi prendi Trattesi poi metti gli occhi Susamarsic ma un mediano? Ok lì magari ci metti qualcun altro ci puoi mettere Cianoglu ma dopo un altro deve averlo certo, hai Aslani spero che questa cessione di Brozovic comporti un upgrade di Aslani soprattutto che Cianoglu lì è una garanzia ma Aslani merita di fare il salto di qualità appunto fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate ti mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ovviamente spero che tutto sia andato bene anche perché sto registrando con la nuova Sony ZV-E10 e quindi ora devo prendere un po' di pratica ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi